Il rapporto tra il territorio dove scorre il fiume Piave e le vite delle donne e degli uomini che lo abitano, che rapporto è? Allora è un rapporto a volte diciamo che va in sintonia con il territorio, a volte che subisce degli stop, degli scontri e soprattutto è un rapporto che si confronta comunque sempre con il fiume, come quando l'alluvione si manifesta e quindi crea problemi a tutti i protagonisti del film praticamente. Presente e memoria si incontrano come? Il passato diciamo che è presente in tutte le vite di queste persone tranne che in quelle dei pastori che sono proiettati e sono sempre in movimento e sono sempre diciamo hanno una forza che li spinge sempre altrove, mentre tutti gli altri sono in qualche modo fermi nel passato cioè ognuno ha qualcosa che li trattiene nel passato, ha un pezzo di storia che li porta nel passato, quelli fa rimanere fermi nel passato e quindi è interessante vedere come il presente e il passato convivono in qualche modo in questo film, in questa realtà, in questi personaggi. Chi riesce ad andare oltre le rive? Noi siamo andati oltre le rive perché il fiume c'è poco nel film, è una scelta diciamo voluta, nel senso che non voleva essere fra virgolette il solito film sul fiume che ce ne sono già stati molti altri prima, l'idea era di far vedere un pezzo di territorio che è toccato dalle storie del fiume che quindi il fiume è presente sempre diciamo nello sfondo e nella vita di queste persone il fatto che loro comunque abbiano a che fare col fiume è inevitabile però questo può essere accaduto nel passato come nel presente insomma Il fiume c'è poco ma la location conta tantissimo 220 chilometri, è questo fiume che taglia in due il Veneto praticamente e quindi si passa dalle montagne perché si parte dalle montagne, dalle sorgenti fino ad arrivare al mare, quindi si parlano addirittura di lingue diverse perché c'è in montagna c'è una lingua dura proprio tipica della montagna, un dialetto al mare invece si parla veneziano perché è quasi in territorio veneziano e quindi cambiano tantissimo i paesaggi, cambia tantissimo, cambia l'atmosfera, cambia tutto, cambia la lingua cambiano le persone grazie a tutti